Direttore, questa mattina la Casa Circondariale di Teramo firmerà il protocollo d'intesa insieme alla ASL per il piano contro i suicidi. Quanto pesa questo problema nel carcere di Teramo? Questo è un problema spinoso, è sempre esistito e esisterà sempre purtroppo. Il nostro sforzo è quello principalmente di contenere il disagio psichico in carcere perché è la patologia che più affligge i detenuti, sia che arrivino dalla libertà sia che arrivano da un altro istituto, specialmente più fragili emotivamente. Il nostro compito attraverso questo piano operativo locale è quello di dare qualcosa in più in termini di potenziamento delle condizioni ambientali carcerarie perché sono convinto di una cosa, che il carcere deve diventare un luogo di promozione della salute del cittadino detenuto. Intesa non solo come assenza di malattia ma principalmente come un beneficio psicofisico del soggetto che attraverso questo beneficio e in correlazione con l'ambiente in cui vive è possibile sicuramente favorire una regressione di questi fenomeni suicidari. Lei che cosa ha notato negli anni di esperienza che ha avuto nel carcere? Quali sono i problemi maggiori? I problemi maggiori che riscontriamo sono sicuramente l'affettività, quando c'è una carenza affettiva da parte della famiglia, quando è lontana, quando ci sono disagi come i lutti, gravi eventi critici di qualsiasi genere, quando il tenuto è solo, è isolato con se stesso e con i suoi problemi. Quello forse è il momento in cui bisogna fortificarlo, bisogna conoscerlo, ascoltarlo. Le dinamiche comportamentali vanno ovviamente tenute in considerazione da parte dello staff multidisciplinare del carcere perché si riesca a favorire un suo reinserimento graduale dal punto di vista psicologico e poi ovviamente anche ambientale. Non è facile, ripeto però, non è facile.